Ciao ragazzi sono Simon Echini Nero, benvenuti al nuovo angolo di inquadratura! In questo video parleremo della perfetta vocal chain per la registrazione di video, di content creation e tutte quelle situazioni in cui hai bisogno di controllare la voce in un modo veloce, efficace, facile e magari anche a basso costo faremo l'utilizzo di plugin gratuiti e di plugin a pagamento ma completamente sostituibili con plugin gratuiti in descrizione. Questa è la mia vocal chain che ha una sezione di plugin adatti per il noise removal, plugin per l'equalizzazione e plugin per il controllo della dinamica. Perché è una catena di effetti utile per il content creation? Perché schiaccia abbastanza la dinamica ed è una cosa che sì può essere utile anche durante la registrazione di canzoni per la voce oppure la registrazione di tracce audio di qualsiasi altro tipo, ma durante una vera canzone bisogna sempre stare un po' attenti alla dinamica perché non bisogna mai ucciderla. Mentre durante un video come questo ci sono situazioni in cui potresti voler far ascoltare qualsiasi parola da te detta a qualsiasi volume in qualsiasi momento e questo viene fatto con un buon controllo della dinamica e anche con la giusta equalizzazione, ti dirò di più. Prima di iniziare a non dimenticarti di iscriverti e lasciare un like nel caso ti piaccia questo video per aiutarmi con l'algoritmo di YouTube sempre così gentile e simpatico. Partiamo prima di tutto col farvi sentire la differenza della vocal chain accesa e della vocal chain completamente spenta. Acceso. Spento. 1, 2, 3, 1, 2, 3, prova. 1, 2, 3, 1, 2, 3, prova. Il primo plugin che andremo a utilizzare oggi è RiaFear. RiaFear è un plugin che ho già spiegato nel video sulla rimozione del rumore di fondo che potreste trovare nel primo link in descrizione ed è un plugin che serve per rimuovere il background noise. Questa è la voce con il plugin completamente spento e questa è la voce con il plugin acceso. Spento. Acceso. Rimuove il rumore che ha imparato ascoltandolo. Quindi dopo averlo attivato per la prima volta dovrete settare questa su Subtract, l'FFT Size sarà da regolare in base alle diverse situazioni del vostro studio e del vostro setup di registrazione. A me funziona molto bene quando è su 10,24 o su 5,12. Dovete accendere Automatically Build Noise Profile e fargli ascoltare un po' del rumore che avete nel vostro setup. Poi spegnete Automatically Build Noise Profile e regolate questa linea rossa creata tenendo premuto Control e il Left Click del mouse per creare cose particolari come per esempio questa. Per capirne di più vi consiglio sempre di guardare quel video sulla rimozione del rumore. Ma comunque vi dico che è uno dei miei plugin preferiti per la rimozione del rumore e lo uso sempre, veramente. Il secondo dopo questo, nel caso non bastasse quella rimozione del rumore, è un gate. Questa è la mia voce con il plugin spento? Questa è la mia voce con il plugin acceso? Uno. Due. Tre. Uno. Due. Tre. Sì, certamente non porta a molta differenza grazie all'utilizzo del ReaFear, ma ne faccio utilizzo proprio perché non ho mai voglia di settare il ReaFear troppo pesante, proprio per non rendere la voce plasticosa o così astratta e digitale come l'avete sentita poco fa. Passiamo direttamente alla sezione EQ dove abbiamo un semplicissimo equalizzatore che in questo caso è l'interno di Ableton, un classico EQ8, con un semplicissimo high boost intorno ai 7000 Hz, che secondo me è un'ottima frequenza per dargli un po' di spinta nelle alte senza renderlo troppo fastidioso, troppo harsh, non mi viene in italiano. Quattro decibel di gain increase e come potete vedere il gain del plugin effettivo totale è settato a meno uno perché è sempre importante controllare bene il gain staging della propria catena di effetti. Questa è la mia voce con l'effetto spento e questa è la mia voce con l'effetto acceso. Dal mio punto di vista nel mio setup era necessario dare una leggera spinta alle alte perché come potete sentire il plugin spento mi sembrava un po' carente di quella brillantezza che è tipica di tutti i video YouTube, di tutte le registrazioni che potete vedere su video, su podcast e su tante altre cose. Perché non utilizzare un low cut mi chiederete? Ma molto semplice perché nel mio caso ne faccio già utilizzo sulla mia scheda audio, una Audient ID44 dove è possibile accendere o spegnere il low cut. Nel caso non l'abbiate direttamente sulla vostra scheda utilizzate un EQ e settatelo magari intorno agli 80-70 Hz, magari anche 90. In ben poche situazioni la voce va al di sotto degli 80 Hz quindi non perdiamo niente di veramente importante. Nel mio caso ora lo spengo perché non ne ho necessità. E andiamo avanti sempre con una cosa che è una via di mezzo fra un'equalizzazione e un compressore. Nel caso facciate mixing capirete cosa intenda. Cioè un plugin per il de-essing. De-ess-ing. Nel mio caso sto utilizzando Sibilance, cioè un plugin che era i tempi completamente gratuito dalla Wave, se ora costa circa 29 dollari, versioni gratuite sempre in descrizione, e la sua funzione è quella di rimuovere del volume quando sente quelle specifiche frequenze, quelle frequenze che non dipendono veramente dal volume al quale stiamo parlando perché una S detta ad alto volume, Simone, o a basso volume, Simone, è più o meno allo stesso volume. Questa è una particolarità di ciò che causa il de-essing ma necessiterebbe di un lunghissimo altro video per spiegarvela. Comunque funziona molto bene, va settato praticamente solo il threshold, potete modificare la detection o la modalità, se averlo wide o split. Io ho una via di mezzo delle due che è poi quello che esce, aprendo direttamente il plugin e trovo che funzioni veramente bene. È interessante utilizzare un de-esser dopo un equalizzatore con delle boost delle altre frequenze perché quello che potreste aver aumentato con questo equalizzatore viene tolto dal de-essing, quindi è un ottimo bilanciamento delle due cose. Oh, finita la sezione di equalizzazione e de-essing, passiamo alla parte di dinamica che nel mio caso è composta da un 1176 e un LA-2A, o meglio delle emulazioni di questi due compressori super famosi, nel mio caso un CLA-76 e un VC-2A, naturalmente sostituibile con il CLA-2A. CLA-76 e l'eventuale CLA-2A sarebbero entrambi della Waves e costerebbero entrambi 29 dollari se non ricordo male. Questa è la versione della Native Instruments e sto utilizzando questa solo e semplicemente perché... non lo so. Probabilmente l'avevo lì quando ho creato questa catena di effetti ed è rimasta lì. E funziona allo stesso bene, è abbastanza orrenda, proprio brutta da guardare. Ma non importa, resta sempre chiusa e funziona allo stesso bene. Questo è l'effetto del CLA-76. Oh, piripipo, pi, purupipo. Perché faccio queste cose stupide? Perché il CLA-76 è un compressore che funziona con i transienti veloci. Quindi, po, piripipo, piripipo, pipo, 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 pipo. È settato su un release molto veloce che in questo plugin e in questo compressore in generale si trova sulla destra e un attacco piuttosto medio barra lento che si trova in questo compressore sulla sinistra, una ratio di 4 to 1 e un input e output settati come segue. Dopo aver regolato i transienti veloci, abbiamo un controllo dei transienti più lenti, quindi delle cose che sono regolabili con un compressore più lento come l'LA2A. Eventuali versioni gratuite saranno linkate in descrizione, un semplice controllo di gain e un semplice controllo di Vick Reduction. È settato in modo da funzionare bene sempre nel mio setup, quindi badate bene di regolarlo al modo giusto. Io penso che Massimo faccia un paio di decibel di rimozione quando proprio si trovi al massimo. Al termine della vocal chain, ma non in realtà vera parte della vocal chain, c'è un limiter settato a meno 0,30 decibel come super threshold altissimo nel caso la voce esplodesse e fa anche da boost del volume perché ho messo il gain a 4 decibel e questa è la mia personale vocal chain di cui faccio utilizzo in tutti i miei video e ripeto anche in qualche situazione di registrazione. Cosa ne pensate di questa vocal chain? Fate qualcosa di differente? Provatela, fatemi sapere come vi trovate. Grazie per essere stati con me tutto questo tempo, vi ricordo di lasciare un like o iscrivervi nel caso vi sia piaciuto il video. Io sono Simon Eichinaero e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Ciao!